Che esperienza fa? Che esperienza fa l'ansioso? Commento. Contrariamente a quanto pensano alcuni, l'ansioso appartiene alla fascia della media evoluzione. Infatti, l'ansia è data dall'io che teme di essere impari agli eventi che lui stesso ha creato. L'ansioso vive ancora nel dominio del divenire e, a causa di questa illusione, non ha quiete interiore. Questo non significa che, al contrario, i tranquilli siano sempre individui di una certa evoluzione. Sintimo d'evoluzione è la pace che si raggiunge dopo aver attraversato tempeste interiori. La pace che invece dimostrano molti tranquilli è la quiete prima della tempesta, quando si è ancora inconsapevoli del proprio destino evolutivo.